Adolfo Hitler? No, Franco Franchi. L'asse Franchi in grassia è impegnato in una nuova guerra lampo contro il malumore. Mentre diretti da Lucio Fulci giravano negli studi, hanno sospeso il lavoro per salutare il grande regista americano Billy Wilder, ospite dei nostri stabilimenti. Approfittiamo anche noi di questa breve pausa per fare quattro chiacchiere con i due conici. Dopo tanti anni di oscuro lavoro, che effetto vi fa il successo che avete ottenuto con i vostri film? Beh, è meraviglioso. Per me è come quando uno ha scontato una pena in galera e viene fuori e dà tutta la libertà a suo favore. Pensate di meritarlo questo vostro successo? Sì, sì, è come no. E chi è che dice al contrario? Ma non per le nostre doti artistiche, ma per quello che abbiamo passato per raggiungerla. E mica è stato facile, eh? Avete intenzione di cambiare genere? Eh no, eh no. Noi non abbiamo nessuna intenzione di cambiarlo, perché abbiamo capito che il pubblico ci vuole così. Però cercheremo, in tutti i modi, di migliorare. Ingressia, lei lo stima come comico Franco Franchi? No, per carità, ma chi l'ha detto? Ma chi è che mette in giro queste voci? Ma chi li ha osato? Chi ha osato? Ma non me lo farà diventare un omicida, eh? Come comico Franco Franchi? Ma nemmeno per sogno. E lei giudica Ingrassia un buon comico? Ah, chi? Ingra, Ingra, Ingrassia. Mai sentito il nominario? Mi creda? Eh no, 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 scherzo. Le dico la verità. Ah, quello lungo, con i bassi, insomma, quello brutto, quello magnissimo. No, no, ma che scherziamo. Ma lei lo sa per che cosa si trova qui sulla terra insieme a noi? Eh sì, perché veda, lui è stato fatto distrattamente, hanno preso la testa di un altro, due braccia, due gambe, chissà di chi. L'hanno messo tutto insieme e l'hanno buttato in mezzo all'umanità. Ed è capitato proprio vicino a me. Allora chi è la spalla di voi due? È lui. No, no, dico... Lui. Tu. No, è lui. È lui. Sei tu. Guarda che... Non mi mettere in condizione di farti una guerra, sai. Sei tu. E l'hai sempre saputo che sei tu. Generale von Franken. Ah, sì, ah! Ah, sì, ah! Ah, sì, ah! Eh? Ah, sì, ah! 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 C'è un altro! Ah!